Mi pievo più possibile come posso, appoggio, mano, piano, piano, senza fretta, altra mano, piano, 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 se non ce la faccio andare con le gambe stese, posso pure piegare, piegare in questo modo, minimale poi ci toccano il petto. Poi ginocchia, cercano il soffitto, anche qua già comincio di attivare il gluteo, piano, 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 se lo sento non serve, non abbiamo bisogno di avere mezza, attivo il gluteo, immagino,